Questo progetto nasce per la volontà del maestro Mario Modestini che ha progettato le musiche federicei, di Francesco Panasci e io con la grande collaborazione di Melo Minnella che ci ha fornito delle immagini di grande rarità. Di Franco Montemaggiore altrettanto che si è stato sia la prima volta nel 2011 che anche quest'anno a ricordare la grande immagine che è stata Federico II. Sono un appassionato della città di Palermo, sono rimasto in questa città perché è ricca di arte e di cultura, però siamo noi a portarla avanti, ma noi è la classe dirigente e tutto quanto. Io a Milano mi ho incontrato a Carlo Carrà e ha detto ma che ci vai a fare a Palermo? Palermo è la mia città, cerco di portarla avanti in certe maniere e quindi ho realizzato tantissimi acquerelli e acrilici sull'architettura arabo-normanna che fu fondata dal IX secolo al XII secolo, quindi Federico II c'entra e come? Il periodo normanno-svevo è certamente per la Sicilia il periodo più importante e più stuzzicante. Trovare ogni tanto delle cose nuove rende questo percorso ancora più gradevole. Una battuta, questa ansia di scoperta mi ha portato qualche anno fa a individuare, ma non credo che sia forse verità, un Federico II che campeggia all'Osteri con la sua corte. Questa ipotesi potrebbe essere anche vera perché praticamente dal momento della morte di Federico II alla creazione di questo capolavoro appunto del soffitto dell'Osteri passano pochissimi anni. Io spero che questa immagine che campeggia appunto in uno dei travi dell'Osteri potrebbe essere l'immagine di Federico II, anche perché si avvicina moltissimo alla iconografia che sempre è circolata diciamo nell'iconografia diciamo ufficiale. Nessuno quando io qualche anno fa ho detto questa cosa mi ha contestato, quindi può anche larsi che sia effettivamente una scoperta diciamo che potrebbe essere mia, ma non per piangeria così, mi fa piacere che la cosa fosse confermata. Nel 1998 in occasione dell'apertura del sarcofago di Federico II, un interesse ovviamente a carattere internazionale, sono venuti tutti i direttori dei musei del mondo dove ho avuto la grande fortuna di raggrupparle a tutti e fare porgere la propria firma su due disegni realizzati da Franco Montemaggiore e un cimelio che non ha nessuno e che noi esponiamo in occasione dell'anniversario della morte di Federico II. Non solo l'ha scoperta il maestro Minnella ma sarà esposto alla nostra mostra su Federico II alla cattedrale dove io ho scritto Federicea e tu mi volevi dire perché hai scritto Federicea, è stato un atto d'amore e anche una competenza verso questo periodo storico di Federico II ed è stato molto più semplice per me comporre l'opera, anche se semplice non è stata. Sto collaborando con mia figlia al violoncello, con Maurizio Majorana che canta e suona il flauto dolce in maniera non troppo dolce e Giorgia Panasci che è una straordinaria arpista. Sarà un bel concerto.